La giunta provinciale ha atteso inutilmente per due ore la presenza di un notaio l'arrivo in provincia del coordinatore provinciale del PDL l'onorevole Luigi Vitale e dei consiglieri di opposizione, i quali nella conferenza stampa di sabato scorso avevano comunque già preannunciato che oggi non si sarebbero presentati. Alla base della querella i costi della partecipazione dell'ente alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, costi che per l'opposizione ammonterebbero ad 80.000 euro. Non è così e lo dimostreremo, avevano detto il coordinatore provinciale dell'Udc Ciro Argese e gli assessori provinciali Vincenzo Baldassarre e Pietro Mita. Se avremo ragione, Vitali dovrà però dimettersi, avevano aggiunto. Ad attendere l'onorevole Vitali e il capogruppo del PDL Nicola Ciraci c'era oggi anche l'assessore alla cultura Paola Baldassarre, da loro accusata di aver pranzato in un noto ristorante locale a spese dell'amministrazione provinciale. Dopo aver presentato querela, l'assessore Baldassarre ha presentato oggi anche le prove. Assessore, restituisce dunque al mittente tutte le accuse? E querelo. Meriterebbero il silenzio, se non che è giusto che i cittadini conoscano la verità. Quelle tre date coincidono perfettamente con l'organizzazione di tre eventi culturali di grande rilievo. I quadri della Passione con il direttore di studi cattolici, il libro su Hemingway di Raffaele Nigro e l'incontro con il portavoce dell'Opus Dei, Pippo Corigliano. La maggior parte delle volte, questi scrittori che vengono tutti a titolo gratuito perché fanno parte delle mie relazioni personali, sono sempre a cena a casa mia. Vista la portata degli eventi avevamo pensato con il dirigente di ospitarli a cena. Naturalmente gli ospiti erano previsti sul piano istituzionale. Nonostante le querele comunque ritenuto utile, comunque doveroso anche nei confronti dei cittadini, fare chiarezza. Guardi, è stato un boomerang sia per Vitali che per Cireci. Sono stata sommersa di telefonate, la gente mi ferma per strada perché conosce il modo in cui opero. Per me la santificazione del lavoro è un principio sacro. Il messaggio che voglio lanciare è questo. Invito l'Onorevole Vitali a preoccuparsi di questo operatorio, a dare risposta alla gente. Ci sono urgenze, ci sono drammi continui e costanti legati alla mancanza di lavoro. E allora proviamo a confrontarci su questo e non sulle calunnie e non sul nulla e non sulla fasia.